Due anni, pena sospesa, revoca della patente, la sentenza del GUP a Elena Ceriotti per la morte di Mauro Cerutti, motociclista di 41 anni di Bogogno, avvenuto il 17 settembre del 2016 a Paruzzaro, in seguito a uno scontro con un camper, condannato ai 76enne di Cesate nel milanese, che era alla guida del camper. I familiari della vittima sono assistiti da GS Risarcimento Danni di Borgo Manero. Secondo quanto ricostruito quel giorno a ritorno da una gita, il camper si era fermato all'area di servizio a Vega. A bordo con il conducente c'erano la moglie, la figlia e la nipote. Al momento di ripartire, il camperista avrebbe effettuato una manovra vietata, svoltando a destra. Oltre alle testimonianze dei presenti, la polstrada di Arona aveva acquisito anche il filmato delle telecamere del distributore. Mentre il camper si metteva, arrivava la Yamaha R1 di Cerutti, che stava superando un'auto e viaggiava a velocità superiore al limite. Il centauro aveva tentato di frenare e di sterzare verso sinistra, ma non è riuscito a evitare lo scontro. L'impatto fu violento. La moto uscì di strada, battendo una recinzione, Cerutti cadde a terra. All'arrivo dei soccorsi per lui non c'era più nulla da fare. Cerutti, padre di quattro figli, era originario di Omenia, dove gestiva un'impresa. La parte civile ha sostenuto che, nonostante la moto viaggiasse a velocità superiore al limite, determinante per l'incidente fu la manovra vietata, compiuta dal camper. Grazie.